A Fagnano Lona per qualche immagine delle serate e delle giornate intense partecipate di grande festa che si stanno avvicinando in questi giorni. Quelle che vedete si riferiscono alla serata di gala organizzata insieme alla Proloco e soprattutto all'associazione Pit Stop Racing di Busto che dopo aver realizzato un casting per l'realizzazione del calendario 2012 e aver fatto provini un po' in giro per il Basso Verisotto ha deciso di presentare questo calendario ufficialmente. A fare gli onori di casa la Presidente della Proloco Remi Damacchi, il mitico Fausto Bossi che tra l'altro ringraziamo per queste immagini. Come avete visto però c'era anche il Sindaco di Fagnano come padrone di caso, ovvero Marco Roncari. La finalità dei calendari, peraltro piuttosto interessanti, realizzati da un gruppo fotografico diretto da Mirko Franzoni era una finalità benefica, solidale, perché parte del ricavato sarà devoluto all'associazione Familiari Vittime della Strada e la buona notizia è che in meno di una settimana sono già oltre 100 le copie del calendario vendute. Dunque davvero complimenti agli amici di Fagnano Lona e in particolare a Fausto Bossi e Hermi Damacchi, molto amici di Rete 55.